Ci sono un sacco di giochi che hanno finali multipli, ma qual è quello che ne ha di più? La possibilità di ottenere finali diversi è una pratica che aumenta notevolmente la longevità del titolo, ed il primo gioco a offrire questa feature si chiama The Portopia Serial Murder Case, una specie di visual novel anni Ottanta che proponeva ben otto conclusioni differenti. Negli anni si sono susseguite molte produzioni che offrono epiloghi diversi, Silent Hill 2 ne ha 6, Chrono Trigger 12, Ivy Rain 17, Nier Automata 26 e Detroit Become Human ben 85. Ma c'è un gioco che li batte tutti. Si chiama Star Ocean Second Evolution, ed è il remake di Star Ocean Second Story, un gioco uscito su PS3, 4 e vita che già al tempo contava più di 80 finali. Con questo rifaccimento però il numero è salito fino a toccare il centinaio. Insomma per vederli tutti non dovete avere proprio un c***o da fare.